E crediamo che in questo momento la CIA sia un istituto da smontare, un istituto che in questo momento rappresenta lo smantellamento della cultura, rappresenta lo troppinaggio della cultura e crediamo oggi che smontare la CIA sia necessario, e crediamo sia necessario aprire un dibattito su che cosa significhi dopo il decreto di liberalizzazione in compartimento a CIA. Abbiamo visto negli ultimi giorni gli avvenimenti che vedono citati i comitati di Carnevale, dove semplicemente per mettere la musica, mentre la CIA chiedeva i 400 e i 100 euro, speculando ancora una volta su quei volontari che portano la cultura delle piazze, ma tutti la cultura delle città, e crediamo che oggi mantenere la CIA significhi difendere la cultura e rappresentare questa cultura come un bene comune, invitiamo tranquillamente ad un accordo che non garantiamo con loro, e non chiediamo che sia loro, ma pensiamo che l'ente in questo momento debba chiudere, perché oggi smontiamo la CIA simbolicamente, portando via, ora anche saremo di serie e sanzionata, perché anche in Trentino si riapre un dibattito, si riapre un dibattito che veda come obiettivo la chiusura della CIA e la difesa della cultura. Ci vediamo tutti insieme, venerdì, pomeriggio, verso le 6, in piazza da Ragno, vicino a piazza Duomo, dove invitiamo tutti gli artisti a parlare con noi della CIA, a portare la cultura in piazza, a scendere con noi, a manifestare per l'alternativa contro la crisi, grazie!